Come federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria assegniamo questa targa di riconoscimento a un'azienda che ci sta molto vicino, un'azienda partner dei campionati italiani ma anche campionati del mondo che si svolgeranno a host nel 2015. L'azienda Coldline perché l'abbiamo scelta? L'abbiamo scelta perché c'è una tecnologia, un'azienda che fa innovazione e vorrei che spendesse due parole il mio amico della Coldline proprio per farla dire qual è l'ultima nata di casa Coldline. Che bella! Allora intanto ringraziamento alla federazione perché è un momento di grande evoluzione della nostra azienda e stanno utilizzando sul campo le nostre apparecchiature, speriamo che siano di soddisfazione, noi lo sappiamo però speriamo sempre che le attrezzature poi rispondano alle esigenze del pasticceri. Abbiamo una serie di prodotti che si chiamano Vision e che sono macchine speciali studiate appositamente per la pasticceria, la panetteria, la gelateria e sono macchine di nuova generazione che purtroppo non possiamo vedere alle nostre spalle ma che vediamo nel vostro stand. Io volevo solo ringraziare la federazione, Roberto e tutti gli chef e i pasticceri che ci stanno seguendo perché è un momento molto bello e ci auguriamo che duri in futuro a lungo. Intanto sicuramente fino ai campionati del mondo andiamo avanti. Grazie Massimo e grazie alla Coldline.